ciao ragazzi e bentornati sul mio canale io sono il lancire e torno da voi con un nuovo video dedicato all'europeo adrenalin 2021 kick off prima di cominciare vi invito a iscrivervi al mio canale per supportarmi e lasciare un bel like al video è arrivato dalla panini l'ultra pack costo di 20 euro all'interno troviamo tre bustine premium 3 premium gold limited edition e un'edizione premium della della card online per ottenere code coins per chi per chi le gioca le tre limited edition che andremo ad aprire sono quelle di ansufati modric e donnarumma la panini quest'anno ha deciso che questo questo pacchetto da 10 euro si vende soltanto tramite sito al costo di diventi in questo ultra pack che adesso ci andiamo ad aprire insieme a un paio di pacchetti standard da 2 euro partiamo proprio dai pacchetti da 2 euro e andiamo a vedere che cosa troviamo primo pacchetto iniziamo con janson nella svezia mut meras turchia ademi della macedonia insieme a elmas so check repubblica cieca soblin il russo carta codice il regalo per voi eccolo qui e andiamo a vedere le card speciali sono joe felix in versione platinum secret hero e ecdal fans favorite svezia secondo pacchetto abbiamo lo scozzese mac barney ansufati gioca anselo portogallo antoni marzial della francia kuluseski svezia bednarek della polonia altro codice premium eccolo qui per voi questi sono codici che il primo che li prende li gioca non sono rigiocabili due card speciali abbiamo ristoschi della macedonia e pulsen gold machine danimarca passiamo all'apertura del nostro ultrapack io cerco di aprirlo rovinando il meno possibile pacco e andiamo con il primo pacchetto 10 card 5 card regolari 4 speciali e una limited edition assicurata partiamo con dris mertens belgio filippo olender dell'ungheria jarem ciuc per l'ucraina federico chiesa versione base lucas masopast repubblica cieca codice online in regalo per voi e continuiamo con le nostre card speciali card bonus germania già sappiamo che la maglia della germania second skin anzi card bellissime queste delle maglie continuiamo con eric dyer fans favorit inghilterra dovremmo avere un secondo fans favorit no matteo kovacic key player croazia e poi aaron ramsey galles edizione limited edition premium e per finire docu carrasco maestro e prodigio belgio questo era il nostro primo pacchetto premium continuiamo con il secondo abbiamo rabiot francia marsello brozovic della croazia gigio donnarumma il nostro portiere azzurro anton miracuc russia willy orban ungheria codice online altro regalo per voi chi prima arriva prima lo gioca card speciali second skin del galles virgil van dieck fans favorit olanda abbiamo livankovic gol stopper croazia e per finire dris mertens finalmente abbiamo trovato dris mertens premium limited edition lo cercavamo da un po' non c'era ancora uscito è arrivato e isaac eberg maestro e prodigio della svezia adesso abbiamo la bustina premium gold al cointerno ci sarà un'altra bustina premium e le card in edizione limitata che sono quello che noi cerchiamo limited edition da 350 coin per la versione gold quindi diversa da quella da 150 che si trova si può trovare normalmente e poi gigio donnarumma ansufati e luca modric pacchetto premium e abbiamo ancora ademi ci è uscito un paio di bustine fa mario fernandez russia milan screener per la slovacchia robin lode il finlandese scott mcdominee scozia codice online per voi e con questo abbiamo terminato i codici la maglia second skin del belgio bellissima poi le card speciali giorgino wijnaldum fans favorite olanda martin martin hintereger austria joe cancello joe cancello come premium premium limited edition per il portogallo e per finire e per finire power trio power trio ci saranno ci saranno due due bustine premium e la bustina premium gold al cui interno un'altra bustina premium e le card gold limited edition di modric ansufati e donna ruma insieme alla card da 350 coin se volete questo è il codice in regalo per voi dai queste bustine ci sono uscite tre premium limited edition esattamente joe cancello dris mertens e aaron ramsi e alcune card base interessanti donna ruma federico chiesa e ansufati tra tutti questo video termina qui spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo ciao ciao